300 milioni di euro, una confisca da 300 milioni di euro agli eredi di Salvatore Buttitta, quello che veniva definito il re delle cave, deceduto nel 2008. Questa confisca è il passaggio successivo scaturito dalle indagini che portarono alla cattura dell'allora latitante Salvatore Rinella, venuta il 6 marzo del 2003, capo del mandamento mafioso di Trabia, in provincia di Palermo. Secondo i collaboratori di giustizia Angelo Sino, Giacomo Greco e Antonio Giuffre, l'imprenditore Salvatore Buttitta, benché non formalmente affiliato a Cosa Nostra, era un personaggio legato a Bernardo Provenzano. Sigilli sono stati posti a 2300 particelle catastali, riferite a unità immobiliari che si trovano in diversi comuni siciliani. A nove società attive nei settori dell'agricoltura, edile del trasporto, a 81 automezzi, mezzi d'opera e di cantiere, a 29 conti correnti, a 8 libretti di deposito al risparmio, a due cassette di sicurezza, due rapporti titoli e due polizze assicurative. Il sequestro di parte dei beni, effettuato nel novembre del 2008, subito dopo la morte di Buttitta, ricordano i carabinieri, fu il primo caso in ambito nazionale di applicazione della normativa, prevista dal cosiddetto pacchetto sicurezza, che prevedeva la proponibilità del sequestro e della confisca anche nei confronti degli eredi. Grazie a tutti.